Allora ragazzi cercare di essere lucidi dopo una partita del genere è difficile cercare di essere non essere incazzata io sono incazzata nera cioè c'è gente che è andata lì allo stadio che la vedo la vedo ridere nelle tribune io non so come fanno a ridere perché io sono incazzata come una bestia incazzata come una bestia e dire poco ragazzi veramente voglio cercare di essere lucida e di di vedere a questo punto il bicchiere mezzo pieno perché c'è andata di lusso con questo pareggio che abbiamo fatto allora abbiamo cercato in tutti i modi di sbloccare la partita siamo stati praticamente sempre sempre nella loro metà campo alla prima occasione prima occasione da gol del Monza prendi un gol che Pavard proprio si lascia sovrastare si lascia sovrastare sto guardando il gol ragazzi sto guardando il gol che ha fatto Dani Mota si lascia sovrastare letteralmente da Dani Mota che alla prima occasione del Monza fa l'1-0 io sono sconvolta perché alla fine l'Inter non ha rischiato mai niente a livello difensivo è stata quasi perfetta se non fosse stato per questo gol preso nel finire della partita ma un Inter lenta un Inter con un possesso palla del 60% contro il 40% ma lenta non siamo abituati a vedere questa quest'Inter non siamo abituati più a questi livelli non siamo abituati più a vedere una squadra quasi svogliata che si passa la palla in modo pa 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 Mkhitaryan irriconoscibile Mkhitaryan per carità ma alzo le mani 36 anni quanti anni ha gioca sempre alzo le mani Lautaro Lautaro Martinez io lo amo follemente il mio capitano lo adoro impeccabilissimo quasi sempre ma se Lautaro non sta bene perché è andato in quella cacchio di Argentina Lautaro deve stare in panchina in panchina perché stasera era veramente inguardabile e non perché voglio criticare Lautaro Martinez ma perché se Lautaro Martinez non è in grado di sostenere una partita non lo fai entrare titolare poi per carità i giocatori li vede lui durante la settimana li ha visti lui ma Lautaro Martinez è arrivato quando? Giovedì è arrivato quando è arrivato? siamo rimasti tutti sorpresi di questa titolarità di questa sera ma dico quello è il male minore perché l'Inter non ha girato mai come fa di solito ci può stare la quarta giornata ti posso dire che ci può stare alla quarta giornata ma la partita contro il Milan la devi vincere adesso perché già hai fatto due pareggi fuori casa gli scudetti si vincono in altro modo sicuramente siamo alla quarta giornata verissimo probabilmente mi sfodererai una grandissima prestazione a Manchester me la devi sfoderare una grandissima prestazione a Manchester me la devi sfoderare magari non vinci contro il Manchester se ti alzo le mani ma mi devi sfoderare una grande prestazione perché questa sera non sono stati degni della maglia che indossano quando una squadra come il Monza riesce a mettere per tutta la santa partita 11 giocatori nella propria area di rigore e a non darti spazi tu cara mia Inter compreso Simone Inzaghi devi trovare idee devi trovare soluzioni perché nel campionato italiano che cosa succede nel campionato italiano succede che ci sono tantissime squadre che lottano per non retrocedere che lottano per la media o bassa classifica che si mettono il pullman dietro e tu devi sapere trovare soluzioni e anche quando non sei fisicamente al top perché questa sera si è visto che quando arrivano dalle nazionali i ragazzi sembrano tanti cadaveri che camminano in campo quando succede questo che cosa devi fare devi cercare di trovare idee diverse quando tu mi dai la palla sempre quasi sempre spesso centralmente con quel pullman che c'è là ma che cosa vuoi fare devi giocare sulle fasce e basta in quel senso lì in quel momento lì devi giocare sulle fasce e basta il gol te lo sei preso te lo sei meritato di prenderlo e non perché il Monza abbia avuto occasione di gol perché il Monza non ha avuto occasione di gol non ne ha avute ma te lo sei meritato per la mentalità per la mentalità perché l'ho sempre detto dall'inizio e lo ribadisco ancora una volta l'anti inter è l'inter subito dopo ad oggi credo che possa venire il Napoli soprattutto perché non ha le coppe soprattutto per le coppe ecco questo è quello che mi sento di dire e non perché ha fatto tre vittorie consecutive dopo tanto tempo non per questo ma perché non ha le coppe perché questa sera sinceramente ha fatto vedere contro il Cagliari che il Cagliari ha tenuto un botto fino al sessantasesimo che poi alla fine ha vinto una partita meritatamente ha stravinto una partita meritatamente l'anti inter è prima l'inter e poi il Napoli sono arrabbiata ragazzi ve lo giuro cioè credetemi faccio veramente fatica ad essere lucida e a parlare di una partita del genere cioè il primo tempo stavo vomitando il primo tempo mi veniva da vomitare sì sempre con la palla sempre il possesso palla sempre l'inter ce l'aveva non ha permesso quasi mai al Monza di affacciarsi nell'area di rigore di Sommer Sommer si è guardato la partita si è preso questo gol che neanche lui sa come si è preso questo gol ok? ha fatto lo spettatore non pagante Ian Sommer ok? no ragazzi così no ve lo giuro già avevo il morale sotto alle scarpe io sotto alle scarpe io avevo il morale sotto alle scarpe già dico vabbè magari l'inter cioè questa squadra mi cambia proprio mi cambia proprio l'umore mi cambia cioè riesce proprio a farmi essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde cioè è impressionante ma che cavolo Aslani 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 per carità si è impegnato tantissimo questo ragazzo ma mi sembra Brozovic dei tempi peggiori quando toccava la palla 150.000 volte prima di fare un cazzita di passaggio porca puttana Aslani cioè l'Inter fa uscire il peggio di me ragazzi o i bollenti spiriti cioè c'è freschetto qua come se avessi 50 gradi addosso 50 gradi o addosso cioè basta poi poi vi chiedete perché Simone Inzaghi fa giocare titolari sempre Barella e Cialanoglu ma non ha fatto bene questa sera a fare il turnover ragazzi ha fatto bene le riserve sono queste e gli 11 titolari dell'Inter sono stratosferici il gioco dell'Inter degli 11 titolari è stratosferico non possiamo dire purtroppo ancora ad oggi la stessa cosa cioè se cambi uno su 11 ok se ne cambi due ok già se ne cambi tre quattro cinque si vede la differenza ma non è colpa di Simone Inzaghi questa questa non è colpa di Simone Inzaghi è colpa di una proprietà che evidentemente non può fare diversamente e basta si prende quello che gli dà questa stagione si prenderà quello che gli dà questa stagione vedremo dove arriveremo ne vedremo delle belle per me l'Inter a livello di organico in campionato è la più forte in assoluto per me l'Inter a livello di gioco è la più forte in assoluto questa sera mi ha fatto schifo questa sera mi ha fatto schifo ok perché sì tenere sempre palla sì non fare giocare l'avversario sì non è facile ragazzi attenzione non è facile cercare di bucare le difese quando sono chiuse in questo modo indecente direi perché ci dovrebbe essere una regola dove veramente le squadre giocano al calcio e non questo spettacolo pietoso dove si chiudono in 11 dietro ma la mentalità con cui si è entrato in campo questa leziosità questo modo di fare non è degno di una squadra che si chiama Inter ed è campione d'Italia le due stelle le hai vinte ora basta ora resetta ora ricomincia non mi guardate troppo allo specchio ok perché così non mi piacete neanche un po' ho la testa a Manchester e per cortesia grande prestazione in Inghilterra non voglio vedere altro non sono una giornalista sono un'appassionata e si vede pure sempre sulla forza Inter nonostante tutto